Sì, buonasera Stefania. Quella che vedete inquadrata è la soglia della porta della carità, porta santa della carità all'ostello di via Marsala, qui a Termoli, a Termini dove ci troviamo. La stazione ferroviaria diventa tetto per i senza tetto, casa per chi non ha casa. Papa Francesco ha appoggiato le sue mani su queste porte, su questi portali, spingendoli poco fa, le ha aperte, le ha spalancate. È un'altra porta della misericordia naturalmente, un luogo fortemente simbolico dove trovano casa, circa 200 senza tetto ogni notte e dove trovano da mangiare circa 600 persone. Proprio in questi minuti viene servita appunto la cena. Una giornata, un pomeriggio trascorso con Papa Francesco all'interno della aula della mensa dove è stata celebrata l'Eucaristia. 200 degli ospiti vi hanno preso parte, altri 500 erano all'esterno fra i volontari. Un Papa in un'omelia particolarmente ispirata in cui ha parlato della presenza di Dio nel nascondimento, a partire dalla gravidanza di Maria e di Giuseppe. La scelta fatta con l'angelo di appunto accogliere il progetto di Dio non nelle onorificenze ma nell'umiltà. Si incontra Dio, avevo fame, mi avete dato da mangiare, ero senza casa e mi avete dato un tetto. Poi si rivolge alla città di Roma, il pontefice venuto qui proprio come vescovo della città di Roma e dice sarebbe bello che ogni romano si sentisse scartato. E ancora preghiamo per Roma e per i romani perché sentano il bisogno di Dio che va incontro al figlio ferito. Anzi, ha detto Francesco che gli va incontro perché egli stesso è ferito ma ferito d'amore. Lo vediamo nel servizio della nostra cristiana caricato, poi vi spiego come si fa per attraversare questa porta santa. Ma subito il servizio.